Oggi è stata una giornata particolarmente proficua per le informazioni che ci sono state fornite. È un dato di fatto che soprattutto i più giovani non si interessino di cassa perché vedono la pensione come un momento molto lontano ed è anche vero che quando invece arriviamo all'età di mezzo, un pochino più avanti, questa diventa una necessità, cioè interloquire con cassa diventa una necessità. Da oggi quello che abbiamo capito è che anche i nostri giovani avvocati devono iniziare a comprendere immediatamente quelli che sono i meccanismi che li porteranno ad avere una pensione. Credo che sia stata una bella giornata di informazione e di formazione. Con la riforma che entra in vigore dal 1 gennaio 2025 abbiamo raggiunto due obiettivi, la sostenibilità e l'equità. La sostenibilità perché otteniamo una garanzia di pagamento delle pensioni per i prossimi 30 anni. Una equità perché anche i redditi più bassi avranno la garanzia del pagamento di una pensione, di una prestazione previdenziale. L'obiettivo dell'ufficio della consigliera di parità è quello di favorire l'esatta e concreta uguaglianza paritetica tra uomini e donne nel mondo del lavoro. E quindi al mondo del lavoro non si sottrae la libera professione dove registriamo il maggiore divario retributivo tra professioniste donne e professioniste uomini. Questo divario incide sulla tenuta della cassa. Sono convinta che la cassa di previdenza e la sua misura sia la cartina tornasole della tenuta del sistema produttivo. In questo le libere professioni in generale ma anche e soprattutto quelle forense hanno la scommessa di raggiungere la esatta, la più concreta per equazione retributiva tra uomini e donne.